L'istituto comprensivo sta provvedendo a censire i bisogni per far fronte all'emergenza Covid. Siamo a buon punto anche grazie alla collaborazione di tutti i comuni, in particolare di recente il comune di San Mazzaro ci ha fornito i banchi che ha acquistato. Sono banchi tradizionali ma comunque banchi delle dimensioni adatte per favorire il distanziamento. Stiamo inoltre provvedendo ad ampliare gli spazi o a riutilizzarli, in particolare sia presso la scuola secondaria di primo grado di San Mazzaro che presso la scuola primaria verranno abbattute delle tramezze per poter rendere più ampie le aule in modo da poter accogliere in sicurezza gli alunni. Quindi grazie alla collaborazione degli amministratori di San Mazzaro, di Pieve Albignola, di Ferrere e di Ottobiano ci stiamo attrezzando per poter accogliere i nostri ragazzi in sicurezza a partire dal 14 settembre.